Noi abbiamo visto i trend, abbiamo visto che quando si iniziò con la legge Sirchia e quindi con il divieto di fumo nei locali pubblici, ci fu in base a quella grossa campagna una diminuzione dei fumatori. Come si è abbassata la campagna di comunicazione contro il fumo, si è ricominciato a fumare. E soprattutto hanno ricominciato a fumare i giovani e i giovanissimi. Oggi si accende la prima sigaretta a 11 anni. Quindi mi sembra evidente che i danni che provoca alla salute di un bambino sono danni enormi che poi ti porti avanti nel resto della tua vita purtroppo. E quindi bisogna cominciare a informare e far passare i messaggi fin dalla tenera età. Per questo penso che anche questi spot siano indirizzati ai ragazzi, ma anche ai bambini, ai loro genitori. Cioè a un discorso di informazione e di educazione più ampio.